Io sono con la responsabile tecnica della Exi Cosmetics Cinzia Valisi. Come si determina e come nasce la linea Biotea? Da quali esigenze e quali sono le azioni e le professionalità e le competenze necessarie per poter rispondere ad un'esigenza cosmetica di viso e corpo del mercato? L'esigenza della nascita del marchio Biotea è stata sviluppata e richiesta da quelli che sono i nostri clienti e i nostri rivenditori nel mondo del capello. Biotea è un marchio giovane, è un marchio che è stato immesso sul mercato da circa due anni, ha avuto un'espansione di vendita incredibile perché ci avvaliamo della professionalità di specialisti nel settore da oltre 30 anni che ci hanno formulato un cosmetico altamente tollerato dalla cute. I nostri plus, il nostro cavallo di battaglia è la tipologia di formulazione. Usciamo con un cosmetico che viene preparato senza paraffine, senza parabeni, senza OGM e senza Sless, che sono materie prime altamente irritative per la cute. Un'altra cosa importantissima che andiamo ad esercitare su ogni singolo lotto di produzione è il nickel test dove determiniamo che il quantitativo di nickel contenuto nel nostro cosmetico è inferiore a una parte su un milione. Questo ci dà la garanzia di poter lavorare ed interagire in tutta tranquillità in tutti quelli che sono i trattamenti che si svolgono all'interno del centro estetico e anche i trattamenti che l'utilizzatore finale si applica a casa, all'interno del suo ambito quotidiano, in qualsiasi momento della giornata. Il nostro marchio si approccia e si propone per di più a quello che è il settore della cosmetica professionale. Quindi per quanto riguarda gli inestetismi più sentiti dalla donna sul corpo sono l'inestetismo della cellulite e quindi andiamo a sviluppare una serie di cosmetici che interagiscono sulla stimolazione del microcircolo e sulla riduzione della cellula adiposa. Mentre per quanto riguarda il viso andiamo a curare la nostra pelle con prodotti che vanno ad aumentare l'idratazione del derma, a ridurre l'eccessiva produzione di sebo e interagiamo con cosmetici innovativi su tutti quelli che sono gli inestetismi legati all'invecchiamento cutaneo. Noi sviluppiamo due grandi famiglie dove racchiudiamo diversi trattamenti per l'idratazione partendo da una linea di base e abbiamo trattamenti per la normalizzazione della secrezione sebacea. Da queste due grandi famiglie poi si apre tutto un percorso di trattamenti professionali dedicato alla prevenzione sulla formazione della ruga e sul trattamento della ruga già esistente. Abbiamo sviluppato diversi trattamenti anti-age, diversi percorsi anti-age. Uno importantissimo nato a luglio dell'anno scorso è stato il trattamento anti-age basato col principio attivo del veleno dell'ape che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni sia in termini commerciali che in termini di risultato. Da questa idea di percorso anti-age abbiamo poi sviluppato due linee dedicate al trattamento della prevenzione della ruga e l'azione sulla ruga dove lavoriamo con acido ialuronico dove siamo riusciti, grazie al nostro laboratorio, a differenziare il peso molecolare di questa importantissima materia prima che sviluppa una fortissima azione di reidratazione del derma. Cinzia Beotea si evolve, va sempre avanti e la sua ricerca è sempre più protesa al ringiovanimento e al mantenimento della pelle sempre giovane. Per questo nascono due nuove linee. Nascono due nuove linee che si rivolgono al pubblico per la prevenzione e per il trattamento della ruga. Grazie alla collaborazione della dottoressa Francesca D'Amato siamo riusciti a mettere a punto una formulazione con acido ialuronico a peso molecolare differenziato, quindi andiamo a sfruttare questa molecola che è tanto ambita dalla nostra pelle per portare l'idratazione ottimale al nostro derma per mantenere la salute della pelle e per prevenire la formazione della ruga. Sviluppiamo queste due nuove linee che abbiamo chiamato Biotea Anti-Age, fa parte della famiglia di Luxury Care per la prevenzione delle rughe e la linea Luxury Care intensiva per il trattamento della ruga già esistente. Per mantenere il nostro corpo sano e quindi anche la nostra pelle sana la cosa principale è la costanza nell'applicazione del cosmetico, come la costanza nel seguire una dieta, come la costanza nel praticare attività sportiva. Quindi quello che consigliamo al nostro cliente è di applicare in maniera quotidiana i nostri cosmetici per avere un maggior risultato in termini di prevenzione o di azione sulla ruga e consapevoli del fatto che non è un risultato immediato con una singola applicazione. I risultati si ottengono mediamente dopo una settimana, dieci giorni di applicazione costante e questo ci aiuta a mantenere costantemente la nostra pelle in salute con una luminosità incredibile, ben riparata da tutti quelli che sono gli agenti atmosferici che sono la principale causa di invecchiamento cutaneo. Grazie